L'impatto è stato violento. L'impatto è stata scaraventata nel fosso che costeggia la carreggiata, mentre la micra ha terminato la sua corsa in mezzo alla corsia. Sul posto sono intervenuti 118, la polizia municipale di Ivrea e i carabinieri di Strambino e Castellamonte. Inutili tentativi di salvare la vita all'uomo, la donna sotto shock è stata invece accompagnata in ospedale. Il sinistro è al vaglio dei carabinieri. Il tratto stradale è stato chiuso al traffico. L'impatto è stato chiuso al traffico.